Andiamo tutta in scena, andiamo le pronte in sartuaria per favore 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi ti muovi, vai Motore, azioni, alza un pochino la testa Stai indietro a limite, adesso guarda in alto, alzi verso di me Guarda sempre le mie mano Non vi va come vi guardo? Non vi guardo, non vi guardo Giriamo Buonasera ragazzi Ve lo siete meritato Alberto Sordi Tornava così Nanni Moretti in uno dei suoi primi film Eccebombo in una specie di invettiva molto anni 70 Che in qualche modo se la prendeva e rifiutava in sordi e con sordi Quelli che egli riteneva essere i tratti negativi ed interiori dell'antropologia degli italiani Si sbagliava Moretti, secondo me si sbagliava due volte Primo perché non bisogna mai confondere un attore con i personaggi che egli sceglie di interpretare Secondo perché è vero casomai il contrario Non ce lo siamo meritato Alberto Sordi Anzi non l'abbiamo capito Forse perché come ha detto uno dei più grandi critici che si sono occupati di lui Sordi ha messo in scena, ha rappresentato quello che siamo Ma forse anche quello che preferiremo non essere Come se Sordi in qualche modo ci avesse restituito esasperando la nostra immagine allo specchio Nato esattamente cento anni fa, il 15 giugno 1920 a Roma Sordi è stato un mostro nel senso etimologico del termine Un prodigio, un miracolo, una di quelle figure che attraggono e inquietano allo stesso tempo E generano sia identificazione sia distanza In più di 60 anni di carriera ha interpretato qualcosa come 160 film Lavorando con maestri come Federico Fellini, Ettore Scola, Mario Monicelli, Luigi Comencini, Dino Risi, Antonio Pietrangeli, Alberto Lattuada, Mario Bolognini, Luigi Zampa Ha diretto una ventina di film come regista e poi ha lavorato per la radio, per il teatro, per la varietà, per la televisione Ha fatto il doppiatore, ha scritto e interpretato canzoni Insomma un performer totale, un artista duttile e poliedrico Capace di maneggiare ad altissimo livello tutte le arti e tutte le tecniche dello spettacolo Prendiamo anche solo il suo lavoro come doppiatore Dalla fine degli anni 30 Sordi ha prestato la sua voce a Oliver Arti, olio in italiano Il ciccione della coppia comica più amata dal pubblico di tutto il mondo E il suo timbro baritonale si oppone a quello stridolo e acuto del doppiatore italiano di Stan Lorin, Staglio E contribuisce anche con le pause, anche con il ritmo A definire l'identità comica del personaggio Almeno quanto la frangetta, le bretelle sul pancione, i baffi a spazzolino e in qualche modo il naso a patata Oltre a Oliver Arti, Sordi ha prestato la sua voce ad attori come Anthony Quinn, come Robert Mitchum E in almeno un'occasione ha doppiato perfino Marcello Mastroianni nel film di Luciano Emmer, Domenica d'Agosto Nel dopoguerra poi ha lavorato alla radio inventando personaggi memorabili come i compagnucci della parrocchietta Dalla parlata nasale e dall'atteggiamento sempre molto perbenista Ma poi mi piace ricordare anche macchiette come il signor dice, come il conte claro o come Mario Pio Sordi però è stato soprattutto un attore Quello che più di tutti nell'Italia degli anni 50 ha dato corpo e voce, volto e gesti Al personaggio del giovane un po' vigliacco, un po' approfittatore, indolente, scansafatiche, infantile, qualunquista Che molti hanno poi interpretato come ritratto impagabile dell'italiano medio Colto nei suoi tanti vizi e nelle sue, ahimè, poche virtù Esemplare in questo senso il personaggio che Sordi interpreta nel film di Federico Fellini i vitelloni Soprattutto nella scena in cui passando in auto in una strada extraurbana vede al bordo della careggiata alcuni operai Lui li chiama lavoratori della mazza che stanno lavorando appunto sull'asfalto E li insulta chiamandoli lavoratori e facendo in qualche modo il gesto dell'ombrello accompagnato da una pernacchia Poco dopo, pochi metri dopo, l'auto su cui lui viaggia resta in panne Lui deve scendere, apre il cofano e vede i lavoratori, i cosiddetti lavoratori della mazza Che ha insultato poco prima, correre con intenzioni non proprio pacifiche e gentili verso di lui Per cui il nostro è costretto a darsi la gambe Spavaldo quando si crede di essere impunito Vigliacco e Codardo quando si trova in pericolo Pasolini diceva che dei personaggi di Sordi ridiamo solo noi italiani Perché, diceva Pasolini, solo noi riconosciamo il nostro pollo Ridiamo e usciamo dal cinema vergognandoci di aver riso Perché abbiamo riso della nostra viltà Perché abbiamo riso sul nostro qualunquismo Perché abbiamo riso sul nostro infantilismo Io non so se è proprio così Io credo che la grandezza di Sordi sia stata quella di aver saputo cogliere Non solo alcuni dei tratti tipici del carattere degli italiani Ma anche alcune attitudini non proprio lodevoli più in generale dell'antropologia umana Per quanto mostruosi siano i suoi personaggi L'atteggiamento con cui Sordi li rappresenta li lascia sempre lì In sospeso, in equilibrio fra un vigile criticismo e una indulgente e bonaria comprensione E in questo sta, secondo me, la grandezza di Sordi Nel suo essere l'ultimo erede contemporaneo di una tradizione teatrale Che è antichissima e risale addirittura alle maschere plautine Arriva alla tradizione vernacolare novecentesca Passando per la comedia dell'arte Passando per i sorrenti di Giuseppe Gioacchino Belli Ed è una tradizione che irride senza mai abbandonarsi a fanatismi e giustizialismi Ma cercando piuttosto di capire ciò che mette alla berlina Per cui quando anche il personaggio di Sordi appare cinico in un dato contesto narrativo Poi Sordi lascia sempre intravedere una sua posizione antropologicamente comprensiva E lui stesso ribadisce con forza questo rifiuto di essere confuso con i suoi personaggi In una intervista sua famosa degli anni 90 Sordi dice più o meno testualmente Non li ho amati neanch'io quei personaggi Ma non capisco questa accusa Io con quelli lì non centro niente Non ho mai interpretato me stesso Fra me e loro C'è soltanto un rapporto breve, temporaneo Io faccio l'attore In effetti solo un grande attore poteva creare e interpretare personaggi epocali E indimenticabili come quelli che Alberto Sordi ci ha regalato Ne ricordo solo alcuni Fra quelli che si sono più profondamente insediati dentro l'immaginario collettivo Penso per esempio al Nando Moriconi Protagonista di un americano a Roma di Steno Giovanotto trasteverino cresciuto nel mito del cinema americano Al punto da comportarsi come se fosse nata a Kansas City Vestendo come un americano Muovendosi come egli crede si muovano gli americani Masticando il chewing gum come secondo lui fanno gli americani Fino ad arrivare all'apoteosi del suo goffo tentativo di imitazione culturale Nella celebrima scena dei maccaroni Nando dopo aver caparbiamente cercato di rinunciare agli spaghetti e al vino Per sostituirli con yogurt, marmellata e mostarda Cioè con una dieta che gli ritiene più consona la sua viscerale passione per l'America Non resiste alla tentazione e si avventa su un piatto di pasta asciutta Al grido di maccarone Tu m'hai provocato e io ti distruggo Nella sua immediata evidenza comica La frase ci dice quanto i miti culturali siano fragili e impotenti Di fronte alla forza del sostrato, alla forza delle radici All'idea di appartenenza che ogni individuo si è fatto di sé Nel film di Luigi Zampa, Il vigile Sord interpreta invece un disoccupato, laziale, alla fine degli anni 50 Che grazie a un caso fortuito e alla sua ossessiva sfacciataggine Riesce a farsi assumere come vigile motorizzato dal comune E con addosso la divisa, armato di casco e stivali Otello, si chiama così il personaggio Crede di potersi finalmente vendicare di tutte le frustrazioni Di tutte le umiliazioni che ha subito nella sua vita E Albertone è bravissimo nel dar vita al personaggio di un cretino Che si sente autorizzato a essere prepotente solo perché indossa una divisa Anche se è totalmente incapace di svolgere il suo ruolo I compiti, le mansioni che quella divisa comporta E la scena dell'ingorgo, celeberima scena dell'ingorgo Causato dalla sua assoluta incompetenza e inadeguatezza è davvero sublime Anche qui Sordi è impagabile nel dar vita a quel grumo di vittimismo Cialtroneria, vanagloria, arroganza, pusillanimità Che ci piaccia o no fa parte non solo e non tanto della italianità Quanto della nostra fragile identità e umanità individuale e collettiva Pochi altri artisti hanno saputo interpretare come ha fatto Sordi I miti e i riti dell'Italia uscita dal boom economico Creando maschere grottesche indimenticabili Penso ad esempio a un film come Il medico della mutua Dove Sordi dà vita alla figura del professor dottor Guido Tersilli Laureato in medicina è convinto che la sua laurea debba essere capitalizzata Il più in fretta possibile nel modo più reddito possibile Per cui alla faccia del giuramento di Ippocrate Il professor Tersilli ha due obiettivi tattici e un obiettivo strategico I due obiettivi tattici sono Primo aumentare al massimo il numero dei suoi pazienti Il numero dei suoi mutuati Secondo diminuire al minimo il tempo medio necessario per una visita E l'obiettivo strategico è semplicissimo Guadagnare di più, sempre di più E per guadagnare di più Tersilli è davvero disposto a tutto A simulare finti malati A inventare false malattie A speculare sulla salute dei suoi pazienti Veri o presunti che siano E i suoi pazienti non sono poi molto migliori di lui Perché sono a loro volta mediocri Sono a loro volta paranoici, corruttibili, ossessivi, parassiti E danno vita tutti assieme a un'immagine sicuramente non positiva di un certo tipo di società Molti altri personaggi di Sordi presentano caratteristiche analoghe Penso per esempio alla figura dell'industriale romano megalomane ma inetto Che Sordi interpreta nel film di Norisi il vedovo Dove il suo sogno è quello appunto di restare vedovo E si dà da fare per restarlo davvero Nella speranza di ereditare i soldi Il patrimonio della moglie milanese Che lo tratta con disprezzo E si rivolge a lui con l'appellativo di cretinetti Ma penso anche a un film come Il boom di Vittorio De Sica Dove Sordi è un industriale fortemente indebitato A causa delle sue scarse capacità negli affari E arriva perfino ad accettare L'idea di vendere un occhio Pur di non mettere in discussione se stesso e il suo stile di vita In un altro film Un film collettivo I complessi Sordi appare dotato di una incredibile dentatura equina È un giovanotto che partecipa a un concorso per diventare speaker televisivo Il ragazzo è sveglio, colto, preparato, perfino disinvolto Solo che in bocca al posto dei denti Ha una specie di segheria Ha due incisivi che sembrano pale metalliche di uno scavatore caterpillar E una mascella di proporzioni conseguenti Ad essere complessato tuttavia non è lui Bensì i suoi esaminatori preoccupati e impacciati All'idea che un simile fenomeno odontotecnico Possa entrare nelle case degli italiani E turbare i loro canoni estetici consolidati Davvero pochi altri artisti hanno saputo rappresentare Come ha fatto Sordi Il disagio della modernità Il velleitarismo con cui l'Italia A cavallo del boom economico dei primi anni 60 Ha cercato di diventare borghese Quindi le smorfie, gli sforzi, gli affanni Con cui una piccola borghesia Spesso culturalmente poco attrezzata E poco coraggiosa Ha cercato di afferrare il benessere E di ostentare uno status che non possedeva Sordi si maschera Sordi si traveste Sordi si concede Sordi si lascia plasmare dagli umori del tempo E gli restituisce sullo schermo In alcuni personaggi la sua maschera Trova anche un riscatto Penso per esempio Caso più emblematico Al capolavoro di Mario Monicelli La grande guerra Leone d'oro Alla mostra del cinema di Venezia del 1959 Ex equo con il generale della rovere di Roberto Rossellini Qui il personaggio di Sordi Dopo aver incarnato per tutto il film Il tipo umano dell'imboscato Del codardo Del vile Del vigliacco Il personaggio di Sordi Dicevo il romano Oresti Iacovacci Assieme e accanto al suo compare lombardo Giovanni Busacca Interpretato da Vittorio Gasman Ritrova uno scatto d'orgoglio E sceglie di finire davanti al plotone D'esecuzione austriaco Piuttosto che tradire i propri compagni Non è un caso isolato In altri film Nel finale di altri film Penso per esempio a Tutti a casa Del 1960 Di Luigi Comencini O Una vita difficile Del 61 Di Dino Risi In questi film Dicevo In un caso Sordi trova la morte Imbracciando le armi contro i nazisti E nell'altro Trova il coraggio Di prendere a schiaffi Il comandatore Che l'aveva umiliato Per tutto il film Comandatore simbolo del benessere Sono esempi significativi Di una italianità Che alla resa dei conti È molto meno opportunista E servile Di quanto sembri Di un'italianità Che trova un suo coerente E dignitoso Codice d'onore Negli anni successivi Sordi Attenua un po' Modifica un po' La sua maschera Che diventa più amara Che feroce E spesso assume I connotati della vittima Come in film Quali detenuto In attesa di giudizio O la più bella serata Della mia vita In alcuni casi Sordi diventa E dà vita addirittura A dei mostri E allora penso A un capolavoro Come un borghese Piccolo piccolo Tratto dall'omonimo romanzo Di Vincenzo Cerami E diretto Da Mario Monicelli Il film racconta La ghiacciante vicenda Di un impiegato Di un modesto Impiegato Alle soglie della pensione Disposto a tutto Ma proprio a tutto Pur di inserire Il figlio Neodiplomato ragioniere Nell'ufficio In cui egli stesso Ha umilmente lavorato Per tutta la vita Ha sogni piccoli Il protagonista del film Ha desideri modesti Ma quando il destino Gli piomba addosso Con tutta la violenza Di cui è capace E lo priva Della sua unica ragione di vita Il figlio Ecco che questo Piccolo uomo Si vendica nel modo più crudele E diventa di fatto Un mostro E Sordi dà al suo personaggio Piccolo borghese Una maschera grottesca Indimenticabile E la regia di Mario Monicelli Disegna un mondo grigio Livido Smorto Che getta nello sconcerto E prende letteralmente alla gola Un'Italia rancorosa Frustrata Untuosa Forforosa Meschina Piccola piccola Appunto Che si può rappresentare Solo con la chiave Del grottesco Laddove il fantasma Del conico Trascolora Nel tragico Come regista Sordi ha diretto Una ventina di film A cominciare Da Fumo di Londra Del 1966 Dove mette in scena Come aveva già fatto Del resto Nel film Il diavolo Di Gianluigi Polidoro Le inadeguatezze E le nefandezze Comportamentali Di un italiano All'estero Incapace di comprendere Usi e costumi Diversi dai suoi E di relazionarsi Con codici Con valori Differenti Di un agiato Commerciante Di tessuti Separato dalla moglie Con tante amanti Da mantenere Quanti sono i giorni Della settimana In un'Italia Scossa Delle polemiche Sulla eventuale Introduzione Del divorzio Che allora Non era previsto Dalla legislazione italiana Oppure È molto interessante E anche più interessante Mi viene da dire Un film come Finché c'è guerra C'è speranza Del 74 Sapido E acido Ritratto Di un commerciante D'armi Che garantisce La sua famiglia Un altissimo Tenore di vita Vendendo Fucili Bombe E mitragliatrici In Africa E alimentando Guerre E massacri Fra i poveri Più popoli Del mondo Pur di consentire Alla moglie E ai figli Di appagare Tutti i loro vizi Non tutte le regie Di sordi Sono così Impegnate Così sintonizzate Su grandi temi Epocali Ad esempio Nei tre film Che dirige E interpreta Accanto a Monica Vitti Amore mio aiutami Polvere di stelle E io so che tu sai Che io so Sordi comincia A trasformare Il suo personaggio tipo Che qui Mostra le prime crepe Diventa più moralistico Perfino più Amaroniolo Rispetto al cinismo Che aveva Caratterizzato i suoi personaggi Negli anni precedenti E tuttavia Resta inalterata La sua capacità Di disegnare E pungere Il carattere Degli italiani Ricamando un tragicomico Minuetto Sul tema Della coppia Che scoppia A partire dagli anni Ottanta Nell'ultima fase Della sua carriera Se si eccetto A quella Grande maschera grottesca Che è Il Marchese del Grillo Dove sordi Si cala Nel doppio ruolo Di un nobile romano Dedito Alle burle E alle beffe E di un popolano Carbonaro Suo sosia Se si accettua Dicevo Questo film Il registro Interpretativo Di sordi Si malinconisce Un po' Il moralismo Si accentua Così come il pessimismo Sociale E esistenziale In Tutti dentro Del 1984 Per esempio Nell'indossare La toga Di un magistrato Zelante E virtuoso E virtuoso Che arresta Senza batter ciglio 150 Fra banchieri Vescovi Faccendieri E politicanti vari Tutti accusati Di essere coinvolti In un pesantissimo Giro di tangenti Sordi Anticipa Da grande Sismografo Sociale Qual è Lo scandalo Di tangentopoli E di mani pulite Che sarebbe esploso In Italia Solo otto anni dopo Ma Appanna un po' Sordi La sua immediatezza Vitalistica Per lasciarsi invischiare In un moralismo Un po' Declamatorio Che punta Più che a far ridere A sconcertare Lo spettatore Ma C'è un personaggio Che mi piace ricordare Per concludere Questo Percorso Dentro Il cinema Di sordi Ed è il protagonista Del film Il Tassinaro Del 1983 Dove Alberto Dà vita A un tipo Canonico E emblematico Di taxista romano Flemmatico Scorbutico Un po' lunatico Carica sul suo taxi I personaggi più disparati Compreso Il politico Giulio Andreotti Li scorazza Avanti e indietro Per l'urbe E intanto Dà sfogo Al suo Incontenibile E torrenziale Desiderio di parlare E a un certo punto Carica a bordo Niente meno Che Federico Fellini Suo coetaneo Sono nati Entrambi nel 1920 E suo mentore A inizio carriera E non appena Riconosce Il maestro Il tassinaro sordi Inserisce nell'autoradio Una cassetta Con le musiche di Nino Rota E poi si abbandona A una lettura strepitosa Del cinema di Fellini Evocando Dice Quelle scene fantastiche Piene di Trippone Di Chiappone Di Zinnone Di Buccine E poi di Preti Sdentati Di Monaco e Cappellone Di Cavallerizze Di Cardinali Di Clown Di Pagliacci col Fischietto Di Vecchi che si perdono Nella Nebbia Fellini lo ascolta Divertito Un po' sorpreso E poi Gli risponde con una battuta Che vale davvero Secondo me L'intero film È una battuta straordinaria Che ci interroga Su ciò che davvero vediamo Quando andiamo al cinema E quando vediamo Un film È una battuta Che ci induce Mi induce A chiedermi A chiedervi Che cosa abbiamo visto Davvero noi italiani Nei personaggi di Sordi E perché abbiamo riso È stato un riso Di identificazione O un riso Di distanziamento Abbiamo riso Perché ci siamo sentiti Come lui O per allontanare Da noi la paura Di poter essere visti Come lui Quel che è certo È che l'abbiamo sentito Vicino Anche quando non ci siamo Identificati Con i personaggi A cui lui Ha dato vita Come ha detto una volta Mario Monicelli Sordi ha avuto il merito Di essere L'unico comico Al mondo Capace di divertire Milioni di persone Mettendo in scena Personaggi sostanzialmente negativi Un atto di coraggio Alquanto raro Che merita Credo ancora oggi La nostra stima La nostra riconoscenza E il nostro affetto